In attesa dell'ufficialità prende forma il Consiglio regionale campano, con il rialetto governatore De Luca che guadagna due seggi in più rispetto alla precedente amministrazione. Sono 32 in totale i consiglieri della maggioranza, mentre il centrodestra all'opposizione ne perde due, passando da 12 a 10 e il Movimento 5 Stelle, che nonostante il calo dell'8%, resta a quota 7 seggi. Cambia lo scenario in casa PD. Saranno 8 e non più 15 i consiglieri presenti all'interno della maggioranza di questa nuova legislatura. Tra le fila del Partito Democratico spiccano i nomi di Mister 40.000 Preferenze e Mario Casillo, seguito dalla Torrese Loredana Raia, Bruna Fiola, Massimilano Manfredi e un eletto per ognuna delle altre province. Sempre secondo le proiezioni e restandone la maggioranza, la lista De Luca Presidente passa da 4 a 6 consiglieri, mentre Campania Libera scende da 3 a 2. Buon esordio per Italia Viva, che si aggiudica a 4 seggi. Due consiglieri per parte per le liste Noi Campani, Centro Democratico, per i Liberal Democratici e per Fare Democratico, che fa capo all'ex Presidente del Consiglio Ciria Codemita. Un seggio infine per Europa Verde, Davvero Verdi e per il Partito Socialista Italiano. All'opposizione, certi della rielezione, Valeria Ciarambino e gli uscenti Saiello, Muscarà e Cirillo. Nel centro-destra, guidato da Stefano Caldoro, 3 seggi rispettivamente per Lega e Forza Italia. Bene anche Fratelli d'Italia, con i due seggi guadagnati dai consiglieri Marco Nonno e Michele Schiano.